Nome? Franco. Michela. Cognome? Fava. Boetto. Età? 40. 40. Professione? Ditto individuale di pulizia. Volontaria in Croce Bianca e collaboro con una mia amica che ha un'erboristeria a Cornier. Hobby? Pesca. Pesca e mi piace dipingere, scrivere e tutto quello che è arte. Di quale borgo fai parte? San Giacomo. San Giacomo. La prima volta che hai partecipato al torneo di maggio? Da bambino, nel borgo San Rocco con mia zia. Io ho partecipato l'anno scorso in bettola in cucina, in bettola a San Giacomo. Come e quando vi siete conosciuti? 20 anni fa. Eh sì, 20 anni fa. Perché hai deciso di candidarti al ruolo di reale del torneo? Perché è sempre stato un po' il mio sogno di diventare qualcosa di importante nella mia città e poi ho trovato la mia regina e mi sono candidata. E io invece perché è un po' il sogno delle ragazze di impersonare la regina e poi ridendo e scherzando, insomma, ho sempre detto se devo iniziare a fare qualcosa nel torneo parto dal gradino più alto. Quale emozione hai provato quando hai saputo di essere stato scelto? Quale è reale del torneo? Ah, una grande emozione. Eh, tante, innumerevoli. Un ringraziamento e una dedica per questo importante ruolo che ti è stato affidato? Beh, un ringraziamento alla Proloco che ci ha scelto e ci ha dato questa opportunità. E a mia mamma, in primis. E, vabbè, io confermo ovviamente anche la Proloco e, insomma, non mi viene detto niente. Cosa rappresenta per te il torneo di maggio? Rappresenta un luogo di divertimento, soprattutto la parte storica che comunque riprende la storia di Cornier. Per me il torneo è entrare in un'altra atmosfera, in un altro mondo e quindi è qualcosa di veramente particolare, qualcosa di magico. Un ricordo particolare legato al torneo? Da bambino, quando si sfilava, il torneo ti dà tante opportunità. Conosci gente, stai in mezzo a gente bella e brava. L'anno scorso, quando gentilmente mi ha portato a partecipare in Betola San Giacomo, sbirciavo i reali dell'anno scorso ed ero molto affascinata da questa cosa. Quindi si sbirciavo parecchio. Con chi delle passate, regine Berta, baratteresti la tua regina? Nessuna, è unica. Con chi dei passati era Arduino, baratteresti il tuo re? No, nessuno. Re Arduino augura a tutti coloro che parteciperanno al torneo di maggio? Una grande festa, un bel divertimento e un augurio a tutti di fare un buon evento. La regina Berta augura a tutti coloro che parteciperanno al torneo di maggio? Di vivere il torneo come veramente un'esperienza diversa e quindi di viverla proprio nel contesto proprio del torneo e di vivere gli eventi e di condividere insomma tutto quello che ne viene, quindi divertimenti vari e festa, festa grande per tutti. Un augurio o una raccomandazione alla tua regina? Di divertirsi e di fare questo torneo con me in serenità. Un augurio o una raccomandazione al tuo re? Sì, di godersela senza farsi troppi pensieri e di essere sciolto e di fare attenzione. Ecco. Un saluto a tutti i lettori e telespettatori di Obiettivo News. Ciao a tutti, buon divertimento e buon torneo. Ciao, buon torneo a tutti.